Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dei riflessi del Consiglio regionale di ieri. Forza Italia critica una delibera della regione che impone nuovi ticket nel settore dei servizi sociali e sociosanitari. Una battaglia che ieri in Consiglio si è conclusa con il rinvio alla prossima settimana. A rischio sarebbero tutte le categorie deboli, anche quelle con redditi ISEE bassi. Nuova allarme sanità per l'Abruzzo. Forza Italia porta alla luce una delibera datata 25 agosto che presenta in dettaglio l'atto di indirizzo applicativo nel settore dei servizi sociali e sociosanitari. In poche parole un prospetto sulle esenzioni ticket in base al reddito ISEE. A far saltare sulla sedia i forzisti sono le percentuali calcolate sui redditi, in molti casi molto bassi. Inoltre la delibera sarebbe stata blindata e dunque senza diritto di voto da parte dei consiglieri. Una partita giocata nel Consiglio regionale di ieri che si è chiusa per ora con un rinvio a giovedì prossimo proprio grazie al loro intervento. Noi pretendiamo che venga tolta la maggiorazione dell'addizionale IRPEF regionale che i cittadini abruzzesi hanno dovuto pagare automaticamente quando governava del Turco fino al risanamento di chiodi che oggi viene certificato con l'uscita del commissariamento dal punto di vista sanitario. No, oltre che non viene tolta quella ci aggiungiamo il tentativo per Vicace su cui noi continuiamo a combattere da due anni di introdurre in un modo o nell'altro il pagamento del ticket socio-sanitario su una serie di prestazioni. Quello su cui ci tengono a insistere i consiglieri di Forza Italia è quello che hanno definito un pacchetto blindato e cioè una definizione delle percentuali da pagare per ogni categoria di reddito senza lasciare l'onera ai comuni che a propria discrezione avrebbero potuto decidere di applicarle a redditi più alti causando così, secondo i forzisti, un effetto domino che finirebbe per gravare su altre tasse per i diversi comuni. Un adulto disabile non coniugato e senza figli con un reddito ISEE da 15.000 euro si vedrebbe apporre una percentuale di compartecipazione alle spese del 20%. I disabili coniugati con figli avrebbero il 20% di compartecipazione sul reddito minimo di 24.000 euro. Un minore, il 20%, lo avrebbe applicato sul reddito ISEE del nucleo di 36.000 euro. La giustificazione è che nella loro cultura di governo vi è che le prestazioni sociosanitarie devono essere compartecipate. Nella nostra cultura di governo c'è che gli abruzzesi stanno pagando sin troppe tasse che intanto restituiamo lì ciò che gli dobbiamo, ovvero l'aumento dell'addizionale del PEF regionale. Poi vedremo di far compartecipare su determinate prestazioni i redditi alti e altissimi, non gli altri. Continuiamo a parlare in qualche modo di quanto è accaduto ieri in Consiglio regionale riunito in seduta straordinaria, che ha approvato un documento della maggioranza che impegna il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso a riferire periodicamente in aula sullo stato di avanzamento del Master Plan per il Sud, il piano di investimenti infrastrutturali dal valore di 1,5 miliardi di euro. La parola al Presidente dell'Aggiunta regionale e poi passiamo al voto del primo e poi del secondo documento. Prego Presidente. Il formale impegno dell'Aggiunta regionale è di dare attuazione ai progetti del Master Plan riferendo periodicamente in Consiglio regionale del loro stato di avanzamento. Questo l'esito del Consiglio straordinario dedicato ieri al Master Plan per il Sud, il grande piano finanziato con fondi europei e statali che prevede in Abruzzo, una tempistica serrata nei prossimi anni, 77 interventi dal valore di 1,5 miliardi di euro. La richiesta è stata formalizzata in un documento di maggioranza a firma dei consiglieri Camillo D'Alessandro, Alessio Monaco, Luciano Monticelli, Alberto Balducci, Sandro Mariani, Silvio Polucci, Lucrezio Paolini, Lorenzo Berardinetti e Mario Olivieri. Le opposizioni di Centrodestra e Movimento 5 Stelle non hanno però risparmiato critiche nel merito e nel metodo all'iter che ha portato all'individuazione degli interventi previsti nel Master Plan, senza una vera strategia di lungo termine. E sia Mauro Febbo di Forza Italia che Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle hanno evidenziato che tutto quasi nella partita del Master Plan è stato di fatto deciso da Luciano D'Alfonso e pochi altri suoi fedelissimi. A replicare con vemenza lo stesso presidente D'Alfonso, che invece ha illustrato le strategie complessive che hanno portato a individuare i singoli interventi scelti, ha ricordato il presidente, in base alle priorità indicate in autonomia da ciascun territorio, accusando insomma l'opposizione di esprimere generiche critiche senza costrutto. La maggioranza compatta ha dunque respinto il documento della minoranza in cui si esprimeva preoccupazione per l'iter seguito nella stesura del Master Plan in quanto prevede interventi parcializzati che ne vanificano l'efficacia e in cui si denunciava che i fondi europei della programmazione 2014-2020 sono totalmente inutilizzati e che quelli del Fondo Europeo per lo Sviluppo e la Coesione 2017-2020 rischiano il disimpegno. I finanzieri del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore di circa 145 mila euro ai responsabili di una società edile aquilana. La misura cautelare scaturisce da complesse indagini che la Procura della Repubblica dell'Aquila ha delegato alla Guardia di Finanza su presunti illeciti connessi all'utilizzo dei contributi post-sisma stanziati per la ristrutturazione di un condominio gravemente danneggiato dal terremoto del 2009. Le indagini si sono incentrate sull'esatta ricostruzione dell'iter di un finanziamento pari ad euro 750 mila che il Comune dell'Aquila ha emesso a favore dell'amministratore di un aggregato lesionato dal sisma successivamente impiegato dall'amministratore stesso per il pagamento dell'impresa edile esecutrice dei lavori di ristrutturazione. Contestate otto fatture emesse dalla società per un importo pari a 750 mila euro, sei di queste per un totale di 420 mila circa, non venivano sottoposte al vaglio delle direzioni dei lavori attraverso la posizione di timbri e firme false. Secondo i finanzieri parte dei lavori documentati dalle fatture pari a 145 mila euro circa non sarebbero stati mai eseguiti. Ancora la cronaca è vaso ieri dagli arresti domiciliari a Montesivano e ha fatto perdere le tracce fino a questa mattina quando i carabinieri lo hanno rintracciato a Città Sant'Angelo e si sono dovuti gettare in acqua per acciuffarlo. Protagonista della fuga, un sessantenne che si trovava agli arresti domiciliari per omicidio e altri reati. Nel corso di due controlli successivi i militari dell'arma coordinati da Giovanni Rolando hanno scoperto che l'uomo era evaso e non era rientrato a casa neppure nella notte ma questa mattina lo hanno rintracciato sulla spiaggia di Città Sant'Angelo. L'uomo si è accorto di essere stato scoperto e si è così spinto in mare fin dopo la scogliera ma i carabinieri non si sono dati per vinti e dopo essersi lanciati in acqua lo hanno raggiunto e recuperato. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il MIUR, ha segnato all'Abruzzo oltre 19 milioni di euro per 49 interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. La somma proviene da economie di gara del programma Scuole Sicure predisposto proprio dal Ministero. Secondo il quattordicesimo rapporto di cittadinanza attiva sulla sicurezza, qualità e accessibilità delle scuole italiane condotta su circa 150 edifici scolastici in tutta Italia, il 54% degli edifici si trova in zona a rischio sismico, quasi il 30% insiste nelle zone a rischio 1 e 2, ossia quelli a rischio più elevato. Nel 15% delle scuole sono state riscontrate lesioni strutturali in gran parte sulla facciata esterna, nel 27% negli ambienti interni. Qualcosa nel senso dell'adeguamento sismico degli edifici però si sta muovendo. In Regione Abruzzo sono arrivati circa 19 milioni di euro per 49 interventi di messa in sicurezza, fondi che provengono dal MIUR. La somma, infatti, fa parte del programma scuole sicure a cui hanno risposto le amministrazioni comunali, mentre in precedenza erano stati finanziati in Abruzzo altri 40 interventi per oltre 22 milioni di euro. È una iniziativa che fu lanciata qualche tempo fa dal governo e che adesso giunge a conclusione con questa mole di investimenti di circa 20 milioni di euro che andranno a essere investiti sul nostro territorio e soprattutto su questo particolare tipo di edilizia definita sensibile ma io la definirei necessaria per la vita di comunità. Stiamo scrivendo già ai vari sindaci per come e quando si debbano attivare per questa attività. Sono le prime risposte importanti a un tema che è basato ovviamente all'attenzione negli ultimi tempi sulla scorta degli effetti più mediatici e psicologici che reali derivanti dal terremoto, ma che merita ovviamente tutta la nostra attenzione e che vedrà sicuramente impegnata la regione in maniera importante nei prossimi giorni, nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. Nuova denuncia da parte del Movimento 5 Stelle, questa volta a finire nel mirino del consigliere regionale Pettinari e il depuratore di Pescara, una incompiuta da 20 milioni di euro. Due stati a parlare di inquinamento del mare, sversamenti vari, polemiche, lotte e contestazioni, l'annuncio di nuovi lavori e poi il Movimento 5 Stelle scopre che quei lavori erano stati previsti nel 2011 con uno stanziamento di 20 milioni di euro destinati all'adeguamento del depuratore, finito poi con un'incompiuta. Oggi la notizia di 30 milioni di euro per realizzare un depuratore nuovo e poi la vicenda degli anni 90 di 30 miliardi di lire destinati di nuovo all'adeguamento. Questi i dati che compaiono nel report confezionato da Domenico Pettinari. Quelle opere iniziarono ma si fermarono, come ci ricorda l'anagrafe unica delle opere incompiute della regione Abruzzo, all'8,2% della realizzazione, poi eterna incompiuta. Oggi ci vengono a dire che servono 30 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo depuratore. Questo è follia secondo noi. Perché? Perché andrebbe riattivato il vecchio progetto e finanziamento dei 20 milioni di euro del 2011 e portato avanti la realizzazione delle opere che inspiegabilmente si sono fermate all'8,2%. E con i 30 milioni che oggi vogliono utilizzare per il depuratore di Pescar andrebbe fatta la cosa più importante, cioè la separazione delle acque bianche e delle acque nere per immettere quello che va immesso nel depuratore. Perché possiamo avere anche il depuratore più grande e più bello del mondo, ma se ci buttiamo dentro tutto il depuratore non funzionerà mai bene. La richiesta ora da parte del consigliere dei Cinque Stelle è quella di avere risposte chiare sulla fine dei fondi destinati all'incompiuta e soprattutto di valutare una differente gestione del caso depuratore. Voglio sapere dove sono andati a finire quei soldi, quei 20 milioni integrati e stanziati nel 2011, perché i lavori si sono fermati all'8,2%, non sono andati più avanti, perché tutto questo e perché oggi si fa ricorso a quei 30 milioni invece di riattivare quella opera che già c'è. Alla fine di un percorso iniziato nel 2008 è arrivato a conclusione l'iter di accordo di programma denominato Impresa Agricola Pulita che consentirà agli agricoltori abruzzesi di avere a disposizione una vera e propria raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi e non. L'accordo di programma denominato Impresa Agricola Pulita segna un passo in avanti importante sulla strada della raccolta differenziata dei rifiuti e della semplificazione burocratica oltre che della riduzione dei costi per le imprese agricole. La firma di questa mattina in Regione Abruzzo alla presenza di tutti gli attori coinvolti, ANCI, Consorzi Intercomunali dei Rifiuti, col diretti CIA, Federazione Regionale Agricoltori d'Abruzzo e Copagri, chiude un percorso su cui si è iniziato a ragionare alla metà degli anni Ottanta che ha inseguito i cambi di normativa nazionale ed europea e che dal 2008 ha iniziato a prendere concretezza. L'intento, come spiega l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe, è quello di organizzare il ciclo dei rifiuti agricoli secondo i principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il recupero e il riciclaggio e il corretto smaltimento dei rifiuti. Con questo accordo, insieme agli enti gestori dei servizi sui rifiuti, all'Associazione Nazionale dei Comuni e soprattutto alle organizzazioni professionali agricole, abbiamo sottoscritto un accordo che prevede sostanzialmente la raccolta differenziata porta a porta per le nostre imprese agricole. Un accordo importante, voluto da tutti dopo tanti anni di discussioni e approfondimenti. Oggi inizia un percorso nuovo e per le nostre imprese agricole vanno un servizio ulteriore, aggiuntivo, con meno burocrazia. Il protocollo resta aperto all'ingresso di altri soggetti interessati, come, ad esempio, i consorzi obbligatori. La firma posta stamattina ha validità quinquennale per consentire la messa a regime dell'accordo di programma. Agli operatori agricoli saranno messi a disposizione una serie di punti di riferimento che possono essere impianti propri della gestione del ciclo dei rifiuti, come i centri di raccolta, oppure punti di raccolta temporaneo-mobili che possono essere sia ubicati all'interno dei consorzi agrari che delle stesse aziende agricole, vedasi anche le associazioni, le cooperative, e anche un sistema di porta a porta attraverso l'utilizzo di un'ecomobile che, a chiamata dell'operatore, potrà passare presso l'azienda agricola e raccogliere i rifiuti, siano essi pericolosi che non pericolosi. Rilanciare le aree interne dell'Abruzzo se ne è parlato quest'oggi in un convegno a Pescara. Occhi puntati sulle aree interne. La regione Abruzzo ne è costituita per il 60%, aree che molto troppo spesso lamentano difficoltà e poca visibilità sui temi caldi come infrastrutture, sanità e impresa. Nasce così una specifica voce destinata a colmare questi vulnus che oggi ha visto a confronto sindacati, sindaci e istituzioni regionali. Noi dobbiamo fare in modo che in quella parte di territorio arrivino risorse che possano permettere uno sviluppo adeguato. Io ho detto prima il convegno e lo ripeto qui, non ci può essere sviluppo di una collettività, sviluppo di un territorio, sviluppo di una regione se una parte di quella regione, una parte di quella collettività viene lasciata lì abbandonata. Noi dobbiamo fare in modo che quella parte abbia le necessarie risorse per rimettersi in cammino. Fondi da destinare al rilancio delle aree interne, una necessità che seguirà precise priorità di intervento. Intanto abbiamo i fondi strutturali e quindi FSE, FESR e FEASR e sui fondi strutturali stiamo facendo una politica ad hoc per le aree interne perché una piccola fetta di quei fondi andrà ad essere indirizzata in modo esclusivo sulle aree interne. Particolare attenzione avremo sulle aree interne per quanto riguarda naturalmente la sanità. Sappiamo che ci sono dei finanziamenti e attraverso quei finanziamenti bersaglieremo una parte delle aree interne. Io credo che dobbiamo fare del tutto per far sì che soprattutto in quelle aree nei servizi principali che sono i servizi di cittadinanza come trasporti, scuole e sanità si raggiunga un livello di assistenza assolutamente adeguato. Dal prossimo lunedì 26 di settembre fino al 15 dicembre sarà possibile rispondere al bando di Abruzzo Sviluppo per avviare attività di autoimprenditorialità e aderire così all'iniziativa Selfie Employment. La Regione Abruzzo ha organizzato dei seminari sul territorio per spiegare ai ragazzi le nuove opportunità offerte dal bando. Prestiti fino a 50.000 euro a tasso zero è un percorso di accompagnamento alla redazione del Business Plan. Sono le opportunità offerte dal bando denominato Selfie Employment dal prossimo lunedì 26 settembre fino al 15 di dicembre per i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che appartengono alla fascia dei cosiddetti NEET cioè persone non impegnate nello studio e nella formazione e disoccupate sarà possibile rispondere al bando di Abruzzo Sviluppo per avviare attività di autoimprenditorialità. Da ieri è iniziato il tour organizzato dalla Regione per spiegare i contenuti del bando che rientra nelle misure del programma Garanzia Giovani. Questa mattina il tour ha toccato Pineto. Il bando consente ai ragazzi che hanno già un'idea imprenditoriale un business plan pronto di accedere direttamente ai finanziamenti erogati da Invitalia sul fondo Selfie Employment che è gestito dal Ministero nell'ambito di Garanzia Giovani. I ragazzi che invece non hanno un'idea ben sviluppata o comunque pensano di necessitare di un supporto possono rivolgersi o ad Abruzzo Sviluppo o a Union Camere. Avranno a disposizione dei percorsi erogati ovviamente in forma gratuita tra le 60 e le 80 ore che svilupperanno le loro idee imprenditoriali le aiuteranno ad acquisire skills specifici o comunque generali per l'avvio di attività in impresa e li aiuteranno a stendere il business plan che verrà poi presentato a Invitalia. È importante che i ragazzi capiscano che questi percorsi sono molto utili e quando presenteranno la domanda Invitalia li valuteremo con 9 punti aggiuntivi sulla domanda di finanziamento questo proprio perché abbiamo fiducia in questi percorsi erogati da Abruzzo Sviluppo ed erogati da Union Camere. Per aderire all'iniziativa Abruzzo Sviluppo ha da tempo avviato uno yacht corner presso la sede di Corso Vittorio Emanuele a Pescara e un numero verde 813 17 23 nei quali è possibile chiedere informazioni. Verranno accolte le prime 300 domande presentate con tutti i requisiti di ammissione richiesti dal bando. Domani e dopo domani appuntamento a Montorio al Vomano per la terza edizione della festa di San Gabriele con un ricco programma di intrattenimento che affiancherà la ricorrenza religiosa. Giochi di una volta concerti tornei e escursioni torna a Montorio la storica festa che nasce nel 56 su iniziativa dei residenti di via Settembrini. L'intera strada sarà in festa questo fine settimana con tante novità che caratterizzeranno l'edizione 2016 e la tradizionale processione. Si parte da sabato pomeriggio con l'inizio della gara della briscola e si va a seguire con il programma prestabilito. ci sarà la processione a seguire tra e mezza i soliti giochi popolari per bambini richiamando un po' le vecchie tradizioni ci saranno poi alcune novità che troverete sabato e domenica. Quest'anno abbiamo arricchito un po' il programma ci sono molte novità tra le quali andrei a sottolineare il torneo di calcio balilla umano che si svolgerà la domenica l'intera giornata si svolgerà per i bambini la giornata di sabato avremo un flash mob con una baby disco sarà accompagnata da clown e da artisti di strada tutto questo poi seguirà la serata con la spaghettata la gara di spaghetti che si fa tutti gli anni e la gara di birra anche quest'anno si conferma la festa di San Gabriele grazie al comitato di San Gabriele cresce per le attività e anche l'impegno che riesce a fare nel senso che è importante che nel territorio siano questi comitati ne esiste anche un altro ammontore che è quello della Monona del Ponte quindi cittadini liberi che riescono ad organizzare degli eventi sono sicuramente delle risorse importanti particolarità di questa edizione che riguarda il discorso musicale ci saranno due Montorisi Doc che sono Bruno Marcozzi e Massiliano Coclite che suoneranno e poi Mistolana che penso sia la prima volta che si esibiranno a Montorio quindi sicuramente noi siamo contenti di quello che sta facendo il comitato e invito tutti domenica e sabato a venirci a trovare a Montorio e ora apriamo la pagina dello sport subito la Serie A Pescara mai vincente nella massima serie al Ferraris contro il Genoa per cercare i primi tre punti sul campo dunque i biancazzurri dovranno sfidare anche la tradizione piuttosto negativa a Marassi Oddo recupera Zuparic ma dovrà rinunciare ancora a Koda e Baibach invece l'allenatore rosso-blu Juric perde per 25 giorni il bomber Pavoletti ma mette in guardia i suoi dal Pescara questa partita afferma Juric dirà di che pasta siamo fatti vediamo per centrare la prima vittoria sul campo in campionato il Pescara dovrà violare uno stadio storicamente ostico come il Ferraris di Genova in quello stadio contro la Sampdoria i biancazzurri di Zeman nel 2012 colsero la vittoria dell'ultima promozione ma nella successiva Serie A a Marassi il Delfino è stato suonato 6 gol dalla Samp e 4 dal Genoa e ovviamente 0 punti all'attivo in generale sono 21 i precedenti al Ferraris contro il Genoa con 13 vittorie della compagine Ligure 6 pareggi e 2 fermazioni biancazzurre la prima in Coppa Italia nel lontano 74 la seconda in Serie B nel settembre 99 1 a 2 con reti di Rossi e Vukovia in Serie A tre episodi e altrettante sconfitte per il Pescara il precedente dell'ottobre 92 è stato reso famoso dal caso Dobrovolski l'attaccante russo del Genoa che ricevette due cartellini gialli dall'arbitro Chiesa di Milano dal quale però non fu espulso dopo il 3 a 3 del primo tempo con due reti di Sliscovic e una di Bivi il Grifone si impose col gol di Onorati nel finale dopo l'ottima prova con il Napoli il tecnico Genoano Iuric mette il Delfino nel mirino questa partita dirà di che pasta siamo se ci siamo o no il Pescara può mettere in difficoltà chiunque e ci vorrà massima concentrazione così Iuric oggi sul sito ufficiale Rosso Blu mancheranno Veloso squalificato e Pavoletti che resterà fuori per 25 giorni per una lesione di primo grado alla coscia qualche cambiamento dunque sarà apportato rispetto all'undici che ha spaventato il Napoli sul fronte a Pescara il tecnico Oddo ha recuperato Zuparic che è tornato ad allenarsi ieri dunque aumentano le opzioni per il ruolo di centrale nonostante le assenze di Kode Gionber sempre out buyback Oddo dovrà fare diverse valutazioni in difesa dovrebbe rivedersi Zampano a destra in attacco o ci sarà la conferma del solito trio o con inserimento di Manai Verre potrebbe scalare nel trio mediano per dare un turno di riposo a uno tra Memushai e Cristante in regia ballottaggio Brugman Aquilani Manca ancora la prima vittoria sul campo ma non dimostra preoccupazione il difensore Ugo Campagnaro Pareggio in undici contro nove probabilmente tifosi si aspettavano un risultato diverso Sì anche noi abbiamo provato fino alla fine abbiamo corso tanto provato siamo stati lì gli ultimi minuti il gol non è arrivato però è importante che abbiamo provato abbiamo corso tantissimo e bisogna seguire questa strada le occasioni di gol le abbiamo avute poi niente sempre col portiere col pallo o il difensore che fa l'intervento all'ultimo secondo e il gol non arriva poi abbiamo rischiato un pochettino come dici te perché attaccando con tanti uomini ti scopri un pochettino dietro parità numerica cerchi a volte rischi che ti possano fare gol è successo che Alvano ha dovuto fare due belle parate però sicuramente se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi ma preoccupati non siamo perché sappiamo la qualità che hanno i nostri attaccanti prima o poi si sbloccheranno e verranno i gol è importante che continuiamo a provare e noi ci rendiamo le occasioni ci sono allora prima o poi le butteremo dentro è una vittoria sarebbe stata ottima però abbiamo fatto cinque partite difficili perché le prime quattro eravano molto complicate questo qua un po' meno sulla carta però comunque in serie A per una squadra che viene da serie B come noi non è facile non a caso tutte le squadre che vengono da serie B soffrono il primo anno in serie A perché è quello più difficile è successo al Sassuolo perché il primo anno è molto più complicato degli altri noi bisogna cambiare mentalità velocemente per non rischiare di perdere la categoria e bisogna giocare tranquilli perché la qualità ce l'abbiamo e adesso mi tocca una prova difficile perché ci sono tre partite in una settimana e non ci sono altri centrali perché si sono fatti male parecchi e niente bisogna bisogna lavorare bene riposare bene fare il lavoro che recupero adesso in settimana per cercare di stare al massimo contro il Genoa Scendiamo ora in Lega Pro il Teramo di Nofri cerca la prima vittoria in campionato domani sera alle ore 20 e 30 sulla strada dei Biancorossi ci sarà la matricola Fano e ci saranno anche due ex come Ferrani e Borrelli che nel 2012 furono tra i protagonisti del ritorno tra i pro del Diavolo vediamo Per il Teramo è giunto il momento di centrare la prima vittoria un inizio di torneo che è stato il peggiore dell'era Campitelli il quale per porvi rimedio mai aveva dovuto prendere drastiche decisioni così repentine come l'esonero simultaneo di DS allenatore ora dopo i segnali positivi giunti nella prima partita del neotecnico Nofri a Sant'Arcangelo l'attesa è per il primo successo ma guai a farsi fuorviare dall'avversario il neopromosso Fano all'apparenza una squadra alla portata ma quando una compagine come il Teramo perde l'abitudine a vincere ritrovare i tre punti è sempre faticoso e tutto diventa più difficile non mancano contrattempi come il nuovo stop occorso a Carraro Peterman ha fatto i conti con la febbre per quasi tutta la settimana anche se Nofri ha potuto riavere a disposizione Di Paolo Antonio che è in ballottaggio con Forte per una maglia da quarto di sinistra e potrebbe spuntarla il tecnico Umbro in mediana confermerà poi Petrella Bulevardi e Ilari in difesa torna Dorazio al primo minuto in avanti le certezze si chiamano Jefferson e Marco Sansovini il Fano ha inanellato tre sconfitte come il Diavolo ma di punti ne ha due in più per via della vittoria sul Padova in panchina c'è il tecnico Giovanni Cusatis giocatore del Teramo nella stagione 88-89 e più volte vice di Beppe Sannino due gli ex in campo il difensore Manuel Ferrani e il fantasista Davide Borrelli i due sono stati compagni di squadra anche nel Teramo di Cappellacci che vinse la Serie D nel 2012 Borrelli ha giocato a Teramo dal 2010 al 2012 ma non fu confermato dopo la Prodo in Lega Pro arrivato nel settembre del 2011 Manuel Ferrani è stato un pilastro della difesa bianco-rossa in coppia con Speranza ha rappresentato un muro difficilmente varicabile fino al gennaio 2014 quando ha accettato le avance dell'Alessandria della squadra che ha vinto i play-off lo scorso anno sono rimasti alcuni pilastri come lo stesso Borrelli il centrale Torta e l'attaccante Gucci tra i rinforzi il portiere Menegatti i centrocampisti Carotti e Cazzola e gli attaccanti Cocuzza e l'ex Catanzaro Masini c'è anche l'attaccante Scuola Pescara Ingretolli che sta recuperando da un lungo infortunio sicuri assenti Schiavini e Gabbianelli entrambi per problemi muscolari e nell'ultimo contributo del TG6 conosciamo anche l'ultimo arrivato in Casa Teramo ovvero il difensore esterno Sales che si è legato al sodalizio di via Oberdan con un contratto che ha la scadenza al giugno del 2018 di solito ho sempre giocato una difesa a 4 o a 3 ho fatto il terzino ho giocato io sono piede destra ho giocato a destra però a volte per esigenza ho giocato anche a sinistra e anche una difesa a 3 ho fatto 1 di 3 diciamo ho giocato lo scorso anno andrò a cagare a terra mi ricordo una bella atmosfera che il pubblico era numeroso e mi è sempre affascinato lo stadio che mi è piaciuto quindi ripeto come mi ha chiamato il presidente ho eccitato subito senza pensarci due volte mi manca un po' magari il ritmo partita perché comunque ora è stato un po' fermo mi sono andato da solo comunque con una squadretta lì in zona delle mie parti però mi manca un po' ripeto il ritmo partita spero magari in due settimane di stare bene personalmente darò il contributo per il termo e di far bene e spero di dare un contributo per cercare di vincere le partite di dare le soddisfazioni di tifosi che metano del presidente e della società è tutto per questa terza edizione del TG6 il nostro notiziario torna domani alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte e buonanotte e buonanotte grazie per l'attenzione